Allora andiamo a Venezuela. Giornale a venire. Venezuela, Maduro sposta il Natale al primo ottobre. I vescovi dicono non si tocchino le feste. Questo presidente Maduro è stato appena rieletto. Ma sembra che abbia appena imbrogliato tutto. E tu ridi come quella donna. Ho parlato con una venezolana qui. Come Biden che è stato eletto. È stato eletto come Biden questo qua con gli imbrogli. Ho incontrato pochi giorni fa una venezolana, una donna in gamba e anche le rideva. Rieletto. Ma chi ha eletto questo? Nessuno. Ha detto che tutto il mondo sa che le elezioni sono state manipolate e nessuno fa niente al riguardo. E cos'è che faccio? Una guerra? Cos'è non fare? E lei è uscita? È andata via da Venezuela? Gli ultimi giorni o due. Maduro che ha contrabbandato un aereo di 30 milioni di dollari dall'America e della sua aereo personale. Allora l'ha mandato alla Repubblica Domenicana per riparazioni. Un paio di giorni fa l'America l'ha sequestrato e se l'ha portato a Miami. E questo poveraccio è rimasto senza aereo. Adesso deve andare in giro con la bicicletta. Con la bicicletta magari. Maduro offesissimo. Voi mi avete rubato l'aereo. Ma c'è il Venezione che muore di fame. Che se ne fa lui dall'aereo privato di 30 milioni di dollari? Sì, si muoiono di fame. Da prendere un aereo di linea, anzi non prendere niente. E cos'è questa ultima sparata? Vuole spostare il Natale al primo di ottobre? E vuole offendere la chiesa cristiana. Tutto lì, insomma. Vuole togliere il simbolo del 25 dicembre. E allora le chiese che sono nei simboli sono in cattive acque. Infatti i vescovi non toccate le feste. Guarda, questo, questo, io lo chiamo Stalin venezolano. Maduro. Il Stalin venezolano. Vuole cancellare il 25 dicembre. Io dico ai fratelli venezolani lasciateli fare. Mai preoccuparsi. Perché noi fratellini il Natale lo abbiamo nel cuore. Capito? Là c'è che questi politici si illudano di combattere Cristo spostando la data. Tanto il 25 Natale è già una data simbolica. infatti ci sono i testimoni di Geva offesissimi. Loro non ci levano il Natale il 25 perché hanno scoperto, perché sono così intelligenti, che non è nato il 25. Grazie all'informazione lo sapevamo già. Però non è bello accomunare tutto il mondo a una data che possa attaccare le luci e mettere la musica, le campane? No, perché non è la... ma la sapete voi la data che siete così furbi? Al solito i testi mi dicevano da farsi vedere che sono più furbi, no? Noi il Natale lo abbiamo nel cuore. Gesù, come Gesù è nato a Bethlehem, anche noi siamo nati nello spirito. Rinati. E quello è il nostro Natale. Questa gente ha la politica nel cuore, questi venezolani e compagni. Noi abbiamo Gesù. E allora cosa è successo a tutti questi politicanti? In quale mondo sono andati questi qui, quelli che sono morti? Il mondo di sopra, il mondo di sotto? Dopo che questi politicanti, Lenin, Stalin e anche dove Maduro andrà, in quale mondo andranno? Il mondo del cielo, il mondo dell'inferno? Se veramente abbiamo Gesù nel cuore non aspettiamo una data di 25 Natale, di 1 ottobre per celebrare. Ma ogni giorno per noi è una celebrazione perché amiamo Gesù. Sai, a volte di notte, alle 11 di notte esco fuori con Jasmine per camminare nel giardino per guardare le stelle. Perché qui in campagna si vedono così brillanti, belli e sembra che ogni notte è Natale. Ogni notte celebramo Gesù. Jasmine le chiama diamanti, le stelle. Ha detto sono diamanti che brillano. Quindi Gesù puoi godere il suo amore, la sua bellezza ogni giorno. Natale lo so che è un periodo speciale perché possiamo apertamente parlare di Gesù perché il mondo un po' accetta. Però ogni giorno godiamo questo amore. Se l'accetta allora approfittiamo. Ricordiamogli che Gesù è la figura principale del mondo. Infatti i bambini hanno messo, abbiamo dei cespugli intorno alla casa, i bambini hanno messo delle luci e di notte vedi le luci su questi cespugli. E vi benedica. Allora, con tutto il loro potere politico questi qua, adesso vogliono spostare la data del Natale. Perché hanno spostato la data della rivoluzione bolshevica in Russia? Ma anche la più piccola... Non posso, no! La più piccola cosa che ricorda a loro del bambino nato a Betlemme, che è nato per amore, li tormenta. I demoni sono tormentati di una piccola mangiatoia a Natale. Ma noi, fratelli, andiamo avanti. Non ci fate caso. È tutto quello che possono fare questi diavoletti, no? Comunque, diciamo Gesù che non è nato il 25 dicembre, ma è bello però ricordarlo. Però è nato nei nostri cuori, nel momento che lo abbiamo accettato come Salvatore. Amen! Ogni giorno lo celebriamo. Non aspettare il Natale 25 o neanche una data fissata da qualche politico. Ogni giorno. Luca 2 Luca 2 11 Oggi, nella città di Davide, è nato per voi un Salvatore, che è il Cristo, il Signore. Luca 2 Gloria a Dio. Questi bolshevichi, questi stalinisti, questi marxisti, che non hanno neanche capito perché sono nati, non sanno perché moriranno, non hanno capito niente. Noi cerchiamo di spiegarglielo. Primo Giovanni 5, guarda. Verso 1 5 1 Chiunque crede che Gesù è il Cristo è nato da Dio, e chiunque ama colui che ha generato, ama anche chi è stato da Lui generato. Primo Giovanni 5, verso 1 Va bene, allora noi siamo nati da Dio, siamo nati in Cristo, e allora lo diamo al Signore. Sai che c'è una scrittura in Salmi che dice quando è il giorno di Natale? E il Salmo 118, verso 24, dice Oggi celebramo il Signore. Dice così Questo è il giorno che il Signore ci ha preparato. Festeggiamo e rallegriamoci in esso. O Signore, dacci la salvezza. O Signore, farci prosperare. Tu sei il mio Dio, io ti celebrerò. Tu sei il mio Dio, io ti esalterò. Celebrate il Signore, poiché è buono, perché la sua bontà dura in eterno. Gloria a Dio. Salmi 118, 24 a 29. Alleluia. E qui dice quando celebrare. Oggi. Questo è il giorno. Oggi stesso. È bello questo. Cioè non è una data che gli uomini scelgono, ma ogni giorno celebramo il Signore. Ho sentito qualcuno dire che questi atei non sanno da dove vengono. Non sanno cosa fanno qui sulla Terra. E non sanno dove vanno. E per questo a loro non piace che i cristiani sanno da dove vengono. Sanno per cosa vivono. E sanno dove vanno dopo. E questo veramente li dà fastidio. Yes, amen. Thank you, John. Amen. Grazie, Signore. Andiamo al prossimo. Amen. Andiamo al Vaticano. Grazie a tutti. Grazie a tutti.